Un progetto riservato ai giovani del Canopoleno per iniziarli al linguaggio giornalistico, cartaccio e televisivo. Reporter, un percorso che ha visto la sua conclusione ieri sera. Ai nostri microfoni il tutor del progetto, Pasquale Posadino. Un'incursione piacevole nel mondo del giornalismo, un'incursione che speriamo abbia dato loro la possibilità di conoscere un lavoro che poi è anche una passione. Abbiamo cercato di rendere i contenuti molto semplici e molto facilmente approcciabili per loro e speriamo che ne sia valsa la pena. Mi è sembrato che in qualche modo un po' siano sporcati le mani e che siano veramente andati un po' dentro la cosa con dei risultati che poi andremo a vedere oggi, che racconteremo oggi. Una bellissima esperienza. Pasquale, un modo come un altro anche per renderli partecipi di quella che è la vita reale. Quanto è difficile insegnare a raccontare le verità? È molto difficile. Noi siamo partiti dalle regole basi del giornalismo, quindi siamo partiti con le 5W del giornalismo anglosassone, il chi che cosa, il quando, il dove eccetera. Abbiamo cercato poi di declinare questa formula, una formula che per loro fosse un pochino più facile, più spendibile. E abbiamo cercato anche all'interno del racconto della realtà di far venire fuori dai ragazzi quelli che erano gli argomenti più importanti per loro. Quindi la realtà che abbiamo raccontato noi è una realtà fatta di musica, di arte ad esempio, è una realtà fatta di sport, è una realtà fatta di narrativa perché abbiamo intervistato vari personaggi di questi mondi che ho appena nominato. Non ci siamo calati troppo nella cronaca perché forse per il tipo di ragazzi forse sono ancora un po' troppo giovani. Sarà forse il prossimo obiettivo fargliela contare anche una realtà un pochino più difficile a volte. Però insomma questa poteva essere un'ottima introduzione, speriamo sia stata.